Musica Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati, ben ritrovato, ci fa piacere rievere qui con noi anche Filippo Agostini, amministratore e delegato di Antenor Energia, ben tornato. Ben ritrovata Elena. Allora, naturalmente avrete già capito, parliamo di energia, ma cerchiamo anche di fare chiarezza che non è una cosa così semplice, ne abbiamo parlato anche con l'associazione dei consumatori, come leggere la bolletta, però io pensavo che foste solo dedicati a noi le domande, le perplessità su dubbi, su come interpretare certe voci, su altre che non comparivano, costi eccetera, invece interrogando anche Antenor Energia ci dice che i problemi restano anche direttamente per voi, quindi l'utente, il cliente viene e ha delle perplessità e difficoltà a leggere la bolletta, giusto? Sì, assolutamente. Quindi è trasversale la questione. Sì, purtroppo per fortuna con la fine del mercato tutela le persone stanno cominciando a capire che cosa stanno pagando e fanno fatica a comprendere cosa stanno pagando e la frase mi sembra troppo non rende l'idea, nel senso che comunque la bolletta è fatta da più voci, è composta da più voci e solo circa il 40-45% è relativo realmente ai consumi effettuati dalla famiglia o dall'impresa. È questo che dà un po' fastidio effettivamente. Quindi la composizione della bolletta è un po' complicata. Abbiamo portato addirittura oggi un esempio, seppure dell'anno scorso, comunque di un'utenza con consumo zero e come vedete il totale pagare è 28,50 euro. Apriti cielo, giustamente le persone dicono ma cosa sto pagando? Allora, lì infatti troviamo la spesa per la materia energia circa 5,50 euro, non sono nient'altro che una quota fissa che viene addebitata per il fatto che il contatore è attivo. Spese per il trasporto e gestione del contatore notoriamente sono altre spese fisse dovute alla quota potenza. Se noi a casa abbiamo 3,50 euro di potenza paghiamo una quota fissa che è un moltiplicatore 3 per 3,50 euro in questo caso. Ecco, volevo chiedere questo, queste voci che stiamo vedendo sono per Antenor Energia oppure teoricamente tutti i telespettatori anche con altri operatori dovrebbero avere queste spese? Cioè il 5,46 in materia energia è per tutti oppure c'è chi è più virtuoso? Ci sono delle situazioni in cui quella quota potrebbe essere più alta perché qualcuno ha aderito a dei servizi diversi. Ah, attenzione, quindi i servizi aggiuntivi? I servizi aggiuntivi che possono essere un'assicurazione, possono essere qualsiasi cosa relativa sempre all'energia elettrica o gas metano. E poi abbiamo questi benedetti oneri di sistema che hanno un nome anche particolare che non fanno intendere che come vediamo anche quelli hanno una quota fissa. Tutti pensano che sia una quota variabile in base al consumo, in realtà ci sono delle quote fisse addebitate. In particolar modo in questo periodo vengono addebitati per come sostegno ai bonus sociali che vengono applicati ad altri utenti. E poi abbiamo le imposte, in questo caso esclusivamente l'IVA, ho preso un caso abbastanza semplificato. E vediamo che nella nostra seconda casa, diciamo della montagna o del mare, anche se noi non frequentiamo la casa ed è completamente spenta, ogni mese spendiamo 28,50 euro. Questa cosa si ripropone ovviamente anche nelle bollette di casa dell'azienda, della nostra azienda, dove invece realmente ci sono dei consumi. E ha una suddivisione diversa, si vede su slide 2, nella quale ci sono delle voci principali che sono sempre il costo materia prima che incide dal 40 al 50%, adesso questo è un caso specifico, le percentuali possono cambiare. E poi abbiamo un 20% che è trasporto e gestione del contatore, che non è altro che l'onere che viene pagato per la manutenzione delle linee elettriche o del gas e dei contatori, cioè dei proprietari dei contatori, che non sono il gestore che vi fa la bolletta, bensì può essere distribuzione, può essere ita gas nel caso del gas e molti altri. Poi ci sono gli oneri di sistema, che è una voce che incide particolarmente, che sono in pratica voci che per il 90% esulano dal mercato gas e luce. Non per niente ricomprendono anche un sostegno per i siti nucleari che sono stati dismessi, c'è un sostegno per le ferrovie dello Stato che risale al 1960, insomma una serie di voci un po' particolari. Però siamo sui 18-19 euro, non è poca cosa. Sì, questa è una bolletta da 100 euro, poi non è neanche particolarmente pesante. E c'è anche, infatti nell'ultimo periodo molti hanno buttato l'occhio agli oneri di sistema, la voce agli oneri di sistema sono saliti particolarmente, perché c'è anche quella parte di bonus sociali che vengono riconosciuti agli utenti in difficoltà economiche o fisiche, ma non vengono erogati dallo Stato direttamente, vengono comunque prelovati dalla sommatoria di tutti gli utenti. E quindi più bonus vengono elargiti, più ovviamente gli oneri di sistema salgono. E poi ci sono le imposte che incidono all'IVA, alle ACCISE, nel caso del gas, e le addizionali regionali, e non dimentichiamo che c'è anche il canone di abbonamento alla RAI TV. Ah già è vero, quello lo stiamo dimenticando. Che è una voce a parte e quindi non viene ricompresa in quelle percentuali, ma comunque è presente nel, penso, 99% dei casi delle utenze domestiche, quindi testate a codice fiscale. Però, questa spesa per la materia energia, qua siamo a 37,74, la prima voce in alto. Sì. Quindi vuol dire che questo utente ha speso 38 euro di energia. Sì. E si trova una bollettina da 107 euro. Da 107 euro, se volessimo anche togliere il canone RAI è 98, ma comunque... No, però te lo devi pagare solo perché respiri. Esatto. E quindi sono... Effettivamente viene un po' da riflettere, perché uno dice 37 euro di energia, vuol dire che ha chiuso la luce continuamente, è stato bravissimo, si è comportato in modo ineccepibile, e 100 euro di bolletta è inequivocabile, che sia pesante psicologicamente ed economicamente, o no? Sì, è pesante psicologicamente, anche dal punto di vista economico, ovviamente. È difficile per noi operatori del settore spiegare questo argomento. C'è un progetto, ancora un progetto di legge, per togliere gli ordini del sistema, ma non è che li tolgono e ce li danno gratuitamente. Li vorrebbero distribuire sulla fiscalità generale. Quindi, come dire, da una parte si toglie e da una parte si mette. I bonus sociali sono un grosso aiuto, li hanno inseriti con la crisi energetica, non li hanno più tolti, ma, come dire, non sono una cosa in più, vengono dati a delle categorie ben precise, ma vengono prelevati comunque da tutti gli altri utenti. Infatti, eccolo qua, gli oneri di sistema, qua lo spiegate anche bene, sono dei costi stabiliti dall'autorità. E quindi, questo per chiarire una volta per tutte, non è che siete voi che decidete gli oneri di sistema o anche un altro, non è l'antenna o l'energia, ma sono decise dall'autorità. E questi sono uguali per tutti? Sono uguali per tutti, anche nel mercato, l'ex mercato tutelato, che adesso si chiama tutele graduali, perché girano voci che nel mercato libero ci sono gli oneri di sistema, mentre nel tutelato non ci sono. Niente di tutto ciò. Gestione e distribuzione del contatore sono decise dal distributore di zona. Gli oneri di sistema sono decisi dalla Rera, le imposte sono decise dallo Stato. L'unica voce in cui può andare a incidere un operatore del settore, come Antenor Energia, è il prezzo a metro cubo e il prezzo al kilowatt. Certo. Qui, voi lo sottolineate, viene eliminata con una riforma la progressività in bolletta, cioè più consumi più paghi. Sì. Che da un lato, se legata a una famiglia numerosa, può essere comprensibile, perché uno dice quattro figli, insomma. Dall'altro, se una famiglia invece particolarmente dispendiosa, tante apparecchiature elettriche, aria condizionata, scaldamento, cioè tutto è la stessa cosa, viene sempre eliminato, oppure ci sono dei distingui, cioè bisogna essere certificato il numero delle persone in famiglia? No, in questo caso è un'operazione fatta nella parte di distribuzione, in cui invece di mettere una quota variabile in base ai consumi, è stata trasformata soprattutto per le seconde case, oppure anche per le scale del condominio, in una quota fissa. Quindi anche con consumo zero è salito il costo. Questa è stata una riforma che è partita già nel 2018, ma tutte le tariffe vengono aggiornate mese su mese, dall'autorità per l'energia, soprattutto gli online sistema, e anche la distribuzione trimestralmente aggiorna le tariffe, molto spesso in aumento, ovviamente, nel silenzio di tutti. Mentre per quanto riguarda il kilowatt e il metro cubo, se ne parla molto spesso, ma non si parla mai di tutto il resto che pesa, io insisto, se il 60% pesa così tanto, perché parlare solo del kilowatt e metro cubo? Cominciamo a parlare anche di tutto il resto. Perché comunque, giustamente... Perché secondo lei non se ne parla? Perché forse nessuno ha capito appieno che peso viene ad avere se non vuoi addetti ai lavori? Perché comunque ci sono interessi importanti dietro. La parte di manutenzione della linea, delle linee anche di media tensione, alta tensione, tutta la parte dei contatori è notevolmente costosa. E con l'aumento dei costi e materie prime, ovviamente, sale. Noi ci troviamo, dall'altra parte, siamo le persone che spediscono la bolletta a casa e quindi dobbiamo spiegare cosa è successo. È chiaro che è normale che ti dicano ah, siete troppo cari, cambi operatore. In realtà non è così. Anche la stesso mercato tutela o ex mercato tutela, tutelle graduali, nel trimestre estivo, è aumentato del 12%. Allora, buongiorno Elena, volevo approfittare del suo ospite per sapere cosa è previsto per questo inverno sul fronte costi. Aumentano o restano così? Grazie. Alla premesso che Filippo Agostini, antenore energia, parlerà per antenore energia. Sì, beh, no, io posso parlare dei prezzi all'ingrosso, dell'andamento dei prezzi all'ingrosso. Quelli che voi siete riusciti a contrattare? Quelli che hanno il valore attuale, che sono comunque pubblici, che sono il prezzo unico nazionale, Oppun e il PSV per quanto riguarda il gas. Allora, c'è una tendenza mensile di aumento negli ultimi tre mesi di circa il 7-8% mensile. È tanto però 7-8% mensile. Sì, in Cilio... Questo per il prossimo stagione? Adesso, per agosto, sta salendo ancora. Sono variazioni che, diciamo, sfuggono via, perché comunque anche il kilowatt cambia di qualche millesimo. Però c'è una tendenza ad un aumento. Tutti noi ci auspichiamo che non ci sia più la crisi energetica che abbiamo subito due anni fa, però non è esclusa. È difficile fare una proiezione. Diciamo che in base ai nostri consumi di casa e al prezzo fisso attualmente disponibile, presso Antenor e anche i competitor, le persone dovrebbero farsi i conti se quel prezzo fisso è sostenibile, è possibile eventualmente fissare il prezzo per evitare aumenti a dismisura che abbiamo già subito. Certo è che ci può essere anche un calo dell'energia, ma chi lo sa. Secondo me è più facile che ci sia un leggero aumento. Però voi gli acquisti li avete già fatti? Gli acquisti noi li dobbiamo fare in anticipo, ovviamente. Quindi non sono stati fatti? Vengono fatti all'incirca da marzo a giugno per l'inverno successivo. E quindi sapete già più o meno il trend? C'è questo aumento? Non particolarmente perché noi in base a chi ha già fissato il prezzo del gas compriamo a prezzo fisso. Chi invece ha l'indicizzato compriamo l'indicizzato. Cioè l'abbinamento è uno a uno. Sia questo per l'energia che per il gas. Quindi possiamo rispondere che bisogna stare attenti perché ci si aspetterà comunque un aumento per la stagione invernale. Diciamo che alla fine di agosto e i primi di settembre informarsi a che livello è l'energia elettrica e il gas e cominciare eventualmente a muoversi prima dell'inverno. Non aspettiamo le bollette dell'inverno per muoversi perché è già troppo tardi. Muoversi in che senso? Muoversi a vedere se applicare un prezzo fisso, se cambiare fornitore, se rimanere con lo stesso. Perché applicando un prezzo fisso poi si può tornare nuovamente a quello variabile. Di solito le offerte durano un anno però ci deve essere anche un po' di flessibilità eventualmente dopo sei mesi di poter cambiare la tariffa. Ci sono operatori che hanno questa flessibilità altri che non ce l'hanno. In quel caso cambiare fornitore. Se il prezzo del gas e dell'energia va alle stelle a quel punto è inutile cercare la tariffa migliore. È meglio consumare il meno possibile. Ecco questa è un'altra strategia fondamentale. Sempre guardando prima gli oneri di sistema dove c'era questa chiara spiegazione di cosa si tratta si parlava anche di non residenti e qua la domanda viene spontanea perché abbiamo avuto un paio di telespettatori e voi ci avete scritto probabilmente perché adesso magari molti aprono la casa estiva o che altro che magari usano un mese, 15 giorni benché vada all'anno e si sono resi conto che valutando le spese mensili costanti per forza l'abbiamo capito dalla bolletta in precedenza anche se non sono residenti anche se è la seconda casa cioè una casa chiusa comunque ti costa. Sì l'abbiamo visto con la bolletta iniziale del consumo zero diciamo una seconda casa poi dipende dalle zone ovviamente va dai 30 ai 35 euro fissi al mese solo di energia nel caso di energia poi anche il gas comunque ha un importo similare a quel punto alcuni utenti fanno un rapido calcolo dicono io lo uso una volta all'anno spendo 35 euro al mese per la casa che è chiusa e l'energia non mi serve vuol dire 35 per 11 adesso provo a fare il calcolo velocemente fa 385 euro siccome sospendere l'energia elettrica e riattivarla programmando la cosa dieci giorni prima mi costa poco meno di 200 euro io sospendo l'energia elettrica so che per quel periodo non posso usare la seconda casa e poi la riattivo a quel punto hanno risparmiato circa 150 euro è un'operazione che va programmata perché poi se un weekend uno dice adesso ci vado al mare non c'è l'energia elettrica quindi ci vogliono sempre quella decina di giorni per riattivarla quindi bisogna una programmazione perlomeno una settimana tra amministrativo e partenza e collegamento poi ci può essere qualche problema al contatore però insomma è un'operazione che c'è chi lo fa è gente comunque che si programma molto bene perché altrimenti si rischia di dover partire e non c'è l'energia elettrica però può dare un buon vantaggio se abbiamo anche il gas nella seconda casa idem con patate allora attenzione anche a questa valutazione torniamo su questi temi rispondendo anche ai vostri messaggi dopo la pubblicità tra poco grazie ciao 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 ciao